Ciao sono Luca Manelli e in questo breve video voglio farti vedere come puoi realizzare un nuovo tipo di linea simbolo. All'interno dello strumento linea, arco cerchio o polilinea è la possibilità di scegliere la tipologia di linea. Dal menu puoi vedere che abbiamo varie tipologie. Nel caso in cui ti serva andare a realizzare un tipo di linea che non sia né una linea continua né i punti o i tratteggi, hai la possibilità di creare un nuovo tipo linea simbolo. Per poterlo fare devi sempre utilizzare le linee o lo strumento arco cerchio per andare a disegnare il tuo simbolo. Io nel mio caso vado a utilizzare lo strumento linea e vado a disegnare la punta di una freccia e poi vado a disegnare la gamba della freccia. Questo sarà il mio simbolo. Una volta disegnato lo seleziono e vado a copiare il simbolo. Poi all'interno delle mie opzioni attributi elemento vado a richiamare i tipi linea e all'interno di questa finestra andrò a cliccare sul nuovo per creare un nuovo tipo di linea simbolo. Ho selezionato la voce simbolo e ora ho la possibilità di andare a cambiare il nome della mia nuova linea. Vado a inserire il nome e confermo con ok. Una volta fatta questa operazione ho la possibilità di andare a incollare gli elementi che ho copiato in precedenza. Clicco su incolla. Il mio simbolo viene incollato all'interno di questo spazio. Nella parte sotto dove ho la voce linea ho la possibilità di dimensionare il simbolo. Se vado a impostare 10 al posto di 40 puoi vedere che il mio simbolo si dimensiona in proporzione. Se vado a lavorare all'interno della voce spazio ho la possibilità di diminuire lo spazio tra un simbolo e quello successivo oppure di andarlo ad aumentare. Questa è una scelta che dovrai fare in base a come vuoi utilizzare la tua linea simbolo. Io nel mio caso vado ad avvicinare le frecci in maniera tale da avere le frecce che si susseguono molto vicine una con l'altra. Puoi vedere che nella parte sopra dove abbiamo il menu di scelta abbiamo l'anteprima di come la linea si presenterà quando andremo a tracciare. Subito sotto è la possibilità di gestire il dimensionamento del simbolo in scala con la pianta per cui in dimensione modello. In questo caso avrai il simbolo che si riscala sulla base della scala impostata. Se andrai a scegliere invece scala indipendente dimensione la carta avrai un tipolo di linea che avrà una dimensione fissa indipendentemente dalle scale di stampa. Io nel mio caso vado a selezionare dimensione modello e confermo con ok. Una volta fatta questa scelta all'interno dello strumento linea, dello strumento arco cerchio o polilinea o spline avrai la possibilità di andare a selezionare la nuova linea che abbiamo creato. Grazie.